Se trovo la skin di Thor il video finisce Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'idem shop Nella sezione supporta un creatore Inserite il codice creatore fort così come vedete a schermo Poi accettate E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzoli quindi la sfida di oggi è se trovo Thor il video finisce Mi rendo conto che io sto inossando la skin di Thor ok Ottimi osservatori però non ci interessa Io comunque volevo vederla e vedere se riusciamo a trovarla a qualche altro nemico Sinceramente credo di si Infatti ho fatto anche la sfida se trovo Iron Man il video finisce Che potrebbe essere un attimo più complicata Ma non ci interessa ragazzoli non ci interessa Ovviamente non posso imbrogliare perché la sfida la sto registrando insieme ai ragazzi del sito Viola in live Quindi inevitabilmente non posso imbrogliare in alcun modo E dovrebbe starci un tizio sotto Comunque ragazzi ne approfitto per dirvi Attenzione calmi questo c'ha un fucile a pompa E sta caricando il proiettile E no questo è un problemino Mamma mia non mi ha colpito Volevo dirvi quindi A parte questa cosa che sono riuscito a scamparmela Non so manchio come Che se anche voi volete aggiungervi alle live Basta che andate in descrizione nella sezione live streaming E iniziate a seguirmi Siamo ogni sera in live Vedete che sta proprio il link per il canale del sito Viola E vi conviene ragazzi farlo perché comunque ogni sera portiamo cose diverse Fortnite Nightfall guys Insomma in questo periodo ci stiamo Proprio a scalma na Prego prego Per coche a un euro Stando che per ora non abbiamo trovato ancora d'ora sinceramente Oh Io ho convinto di avere un assalto al primo posto Invece sono passato al medikit Non so voi ma io credo che Giocatore di fortnite ormai di vecchia data quale sono Provare a curarsi davanti a un nemico Mentre si fa un fight non è una grande idea Poi magari confermatevi pure voi però Io non credo proprio Fatemi curare un attimo Beh vediamo di risalire Ho lasciato il Il fucile a ricarica Il charge shotgun Perché era comune Questo invece è epico Cioè scuola mi è raro Quindi forse è un po' meglio Mamma mia che casino Ok Ottima roba per curarci Faccio un po' di scudo Bello fresco Da io così Devo capire come risalire però Perché qua risalire è un po' un cacciotto Non ho capito dov'è la porta Quindi mi farò un buco nel soffitto Nel soffitto, nel tetto E siamo tutti contenti Vedo un po' di gente Calmi qua Dovrebbe stare in zona Sta sul mio piano No? Sta sotto? Mamma mia L'ho scansato per poco Questo è un altro traiardone Sto trovando molti più traiardoni Rispetto al solito Mamma mia Ragazzi ovviamente Elimino un tizio E mi passa addosso L'elicottero Grazie mondo Grazie Si era Thor? Era Thor? Ah era Thor? Ma bello Vi fa piacere Video registrato insomma Grazie a tutti 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 Grazie a tutti